Informa disabilità della città di Torino fa un annuncio importantissimo per tutte le persone sorde e disoccupate della città di Torino. La Regione Piemonte organizza la fiera Io Lavoro che si terrà presso il Lingotto Fiere il 23 e il 24 ottobre dalle 10 alle 18. Che opportunità vi dà Io Lavoro? A Io Lavoro troverete molti stand di tantissime aziende che sono alla ricerca di personale e potrete quindi candidarvi liberamente. Per le persone sorde troverete disponibile il servizio di interpretariato e assistenza alla comunicazione che vi affiancherà durante i colloqui. Durante le giornate saranno resi accessibili anche degli incontri e dei workshop. Ricordatevi di portare dei curriculum aggiornati. Vi aspettiamo!